e buon sera ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo un po a parlare dei cambiamenti che verranno effettuati sul canale essenzialmente a partire dall'anno 2 quindi con l'arrivo dei rinnegati, walk route e robe varie infatti con l'uscita dei rinnegati dal 5 settembre troverete sul canale i video del walk route alle ore 16 18 e 20 per un totale di tre episodi al giorno finita la serie principale della storia di destiny i video torneranno a essere alle ore 18 anziché alle 14 come nel periodo estivo cercheremo di portare live sul canale con molta più frequenza in vista dei grandi contenuti che saranno inseriti all'interno del gioco dovremo riuscire a mantenere intorno allo standard di una live ogni 23 giorni inoltre un grande cambiamento verrà anche effettuato ai video che portiamo principalmente sul canale o video e video di recensioni delle varie armi abbiamo in programma di modificare questi video allungandole leggermente la durata essenzialmente quello che faremo sarà giocare due partite anziché una la prima rimarrà praticamente come quella che vedete di solito quindi elencheremo i perk dell'arma i vari utilizzi le distanze le tattiche e cose varie mentre nella seconda ci incentreremo più sul giocare al nostro meglio in modo da farvi vedere il vero potenziale dell'arma ovviamente la durata del video non verrà duplicata ma verrà allungata di due o tre minuti inoltre con il raggiungimento dei 1000 iscritti abbiamo potuto introdurre nei nostri video la monetizzazione che sarà utilizzata essenzialmente come aiuto al canale per aumentare la qualità generale dei video che portiamo portando un esempio il primo obiettivo è l'introduzione di un nuovo microfono per migliorare la qualità audio delle riprese quindi con questa introduzione sono state attivate anche la possibilità di fare donazioni live ed entrare nella super chat per chi avesse voglia appunto di aiutarci in modo particolare quindi ragazzi questi erano essenzialmente i cambiamenti che verranno effettuati con l'anno 2 del canale saranno comunque dei piccoli cambiamenti che non vi toccheranno particolarmente in prima persona ma che più che altro aiuteranno noi con l'organizzazione e con l'aumento della qualità dei nostri video quindi ragazzi noi ci vediamo domani come tutti i giorni con un nuovo video e detto questo ci vediamo alla prossima ciao io sono Gauda per la tua luce è mia grazie per la tua luce